La storia di cui si ipotizza la fine, certamente la crisi in questo fascicolo di paradosso, ha a che fare con il rapporto che le nostre società democratiche intrattengono con il loro passato. Questo rapporto è in crisi per molti aspetti, uno dei più eclatanti riguarda evidentemente la cosiddetta guerra delle statue che c'è stata da ultimo negli Stati Uniti. Abbiamo visto statue di alcuni dei padri fondatori della democrazia americana, quelle di Thomas Jefferson per esempio, che sono state colpite, danneggiate, rimosse perché Jefferson, Hamilton, altri con loro sono stati imputati di qualcosa che non era un reato al loro tempo, cioè possedere degli schiavi. Questo avviene nella principale democrazia del mondo, mentre invece uno Stato certamente non democratico, la Cina sta cercando di riscoprire e rivalutare le proprie radici nel passato, la tradizione confuciana. Ma poi ci sono molti altri fattori, li elenco semplicemente, la rivoluzione cognitiva legata alla rete che ha cambiato soprattutto nei nativi digitali la concezione del tempo, la scuola che dovrebbe contrastare tutto questo invece finisce in un certo senso per favorirlo. In Europa, soprattutto in Europa, c'è quella nuova religione della memoria che è qualche cosa diverso, di diverso dalla storia, come non sempre è chiaro. La memoria, basti dire questo, pone al centro non tutto il passato ma anzitutto i crimini che sono stati compiuti nel passato dei quali noi dobbiamo, siamo chiamati a pentirci. A questo, alla religione della memoria, alla centralità della memoria, si lega evidentemente a un processo anche di giuridificazione della storia, con leggi e norme che stabiliscono cosa e come ricordare, con i tribunali che sono chiamati ad accertare la verità storica. Di questo e di altro, per esempio della peculiare invenzione, del peculiare successo del Medioevo attraverso i media oggi, di questo e di altro si parla nel prossimo fascicolo di Paradoxa.